amici di youtube benvenuti come sempre sul canale riparo farete oggi andremo a vedere come aggiornare il firmware del decoder izap t366 il firmware per questi decoder non sono facilmente reperibili ma tramite questo link che adesso vi mostrerò a video dovete andare su https www.zaptv.info.it.it qui troverete i firmware dei decoder a marchio izap clicchiamo invio andiamo su questa pagina qui e scorriamo fino ad arrivare dove vediamo la scritta partnership eccolo qui partnership izap è il distributore ufficiale dei decoder a marchio izap e anche i can per il sito i can quello potremo vedere in un prossimo video lì c'è proprio un sito dedicato in questo caso invece per i decoder izap bisogna andare su questo sito qua clicchiamo direttamente sulla voce partnership si aprirà un'altra schermata andiamo su dove c'è il marchio izap e clicchiamo su aggiornamenti software clicchiamo su aggiornamenti software si apre una schermata dove andrà a scaricare tutti i software dei decoder izap in questo file rar è contenuto anche il file del decoder modello t366 ecco qui finita la procedura si apre la schermata andiamo dove c'è scritto nella cartella software update ci clicchiamo sopra e andiamo a prelevare il file che interessa in questo caso è il t366 ma come potete notare ci sono anche altri altri file basta prendere questo aggiornamento qui e trascinarlo in una chiavetta usb formattata in FAT32 allora inserisco la chiavetta usb nel computer apro il pacchetto rar vado a selezionare il file che interessa in questo caso è il t366 per il mio decoder lo prendo e lo trascino direttamente nella chiavetta usb fatto questo vado a togliere la chiavetta usb a inserirla nel decoder eccoci amici davanti al nostro decoder izap modello t366 prendo la chiavetta usb la inserisco nella porta usb comincio a lampeggiare andiamo davanti al televisore allora qualora il decoder l'aggiornamento non si avvia da solo premo il tasto menu del telecomando vado in impostazioni vado nella sezione aggiornamento software aggiornamento da usb percorso file premo ok premo ok seleziono il file e do l'ok ora ora attendo che l'aggiornamento vada a buon fine in questa fase qui mi raccomando non staccate la chiavetta usb che potreste recare i danni irreversibili sul decoder attendiamo il completamento dell'aggiornamento questo aggiornamento va a togliere alcuni bug che il decoder t366 aveva quindi con questo aggiornamento andiamo a risolvere alcuni bug una volta fatto l'aggiornamento il decoder si riavvia come dicevo ecco qui si è resettato il decoder quindi in questo caso noi andremo a rifare la ricerca dei canali lasciamo tutto impostato come a video e attendiamo l'aggiornamento ecco che la percentuale di avanzamento del dei canali è in corso vi lascerò comunque il link del file giù in descrizione qualora il sito per ovvie ragioni va in fuori uso giù avete il link per scaricare il pacchetto avete il pacchetto dove trovate all'interno tutti i file per quanto riguarda i decoder i zap ecco che il decoder ha terminato la nostra sintetizzazione per motivi di copyright togliamo la schermata a video ecco qua decoder aggiornato con successo se vi è piaciuto il video come sempre lasciate un like iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video ecco qui ecco qui